La Villa di Monza rappresenta sicuramente il punto più alto delle cosiddette Villa di Delizia che a partire dal Settecento popolarono l'Abrianza e il nord Milano e che nella fattispecie diventando regia appunto a Sburgica in particolare e poi con i Savoia hanno vissuto momenti di grande splendore. Nonostante l'importanza storica Villa Reale oggi rimane chiusa e abbandonata, una situazione che non fa fare bella figura la città di Monza. Come mai? Ma lei ha perfettamente ragione, abbiamo la regia di Caserta che lo è da sempre, abbiamo Schönbrunn a neanche mille chilometri da noi che è l'altra parte ideale, l'altro punto ideale di quella che è stata la Mitteleuropa una volta, no? E come mai? Parliamoci molto chiaro perché anche da un punto di vista politico Monza e l'Abrianza hanno sempre contato poco schiacciati da Milano, schiacciati da una politica che ci ha visto sempre considerati come quelli che dovevano lavorare dalla mattina alla sera per fare tanti bei mobili, tanti bei cappelli, tante belle industrie ma da un punto di vista culturale poco a PIL. Purtroppo la Villa ha cessato la sua funzione reale con l'assassino di Re Umberto, quindi siamo all'inizio del Novecento e quindi ha vissuto alcuni decenni fino a prima dopo Greta di totale abbandono. Questo ha comportato anche la dispersione degli arredi e dei materiali più ricchi che la Villa conteneva e sostanzialmente il suo abbandono. Negli anni, nei decenni più recenti, essa è stata utilizzata per usi impropri tipo aree espositive, eccetera, che ne hanno definitivamente compromesso la fruibilità. La Villa sta male, molto male, mancano i fondi pubblici e ai privati è stato chiesto di proporre progetti per un nuovo utilizzo della Villa. Una gara naturalmente di livello internazionale in cui sono messi a bando circa 26 milioni di euro, 18, quasi 19 dalla regione Lombardia, gli altri a pannaggio del privato che vincerà la gara e che avrà anche da fare la gestione della parte museale e della parte organizzativa, biglietteria, il bookshop, tutto quello che fa parte di un percorso museale e avrà questa gestione per 30 anni. Il rischio paventato sostanzialmente è quella di una privatizzazione estresciante, nel senso che non solo il rapporto economico tra investimento pubblico e privato è apparso fortemente squilibrato a vantaggio del privato, ma soprattutto perché i vincoli posti su quello che sarà una generazione, 30 anni di gestione, non garantiscono o sembrano non garantire sufficientemente quello che ne sarà l'utilizzo reale. Gli oppositori a questa iniziativa hanno raccolto e presentato al sindaco 10.000 firme contro il bando, chiedendo un progetto diverso. E' stata una speculazione politica bella e buona, perché quando lei ferma un cittadino per strada e gli dice se è d'accordo nell'affittare per 30 anni la Villa Reale a 30.000 euro l'anno, è chiaro che una persona con un minimo di buonsenso dice che è una stupidaggine, mi sembra evidente, ma come dicevo prima, se si va a vedere il bando di gara non è proprio così, assolutamente. Il privato deve investire parecchio e deve fare una manutenzione per 30 anni. Se voi adesso andate a Venaria Reale, vedrete, vi accorgerete che il problema di questa reggia, che pur è stata valorizzata benissimo per carità, è proprio il discorso della gestione, perché non basta fare i lavori, poi devi sapere chi li gestisce e chi farà la manutenzione di tutto. Non esiste, come dire, una determinazione corretta di quelli che saranno poi gli utilizzi che economicamente renderanno sostenibili per il soggetto privato un periodo così lungo di gestione. In sostanza il rischio reale è che col trascorrere degli anni vengano a modificarsi le condizioni di utilizzo in senso prettamente commerciale. Il sindaco insiste, non c'è più tempo e non si vuole replicare il flop di Venaria Reale. In Italia di patrimonio culturale ne abbiamo talmente tanto, che guarda cosa è successo a Pompei, paradossalmente ce n'è troppo di arte in Italia. Però a Venaria è stato fatto un bellissimo lavoro, ma ci sono problemi di gestione adesso.